Il gruppo che si è formato velocemente, molto presi da questa nuova situazione di creare un ecovellaggio molto entusiastico di questo stile di vita, abbiamo preso, acquistato una proprietà, 5 ettari di terreno e formato una cooperativa agricola. Il nostro principale punto introito è dalla cooperativa agricola, anche se effettivamente ci rendiamo conto che non riusciamo in questo ambito ad andare avanti e quindi stiamo cercando nuovi progetti, anche nuove persone per poter continuare il nostro progetto. Siamo nel Lazio, nella provincia di Viterbo, in un posto molto meraviglioso e isolato, anche se siamo a pochi chilometri dal paese, però viviamo una condizione molto rurale, dove ci sono 9 mila ettari di usici civici vicini, quindi non abbiamo la preoccupazione che poi si arrivi alla sovrappopolazione e che altro dire, io sono molto breve, quindi ci troviamo più avanti lì, se siete interessati e che abbiamo come poco... io avrei finito.